È una cosa assurda quello che l'hanno combinato, è una cosa che non si può andare avanti così. Persone che lavoriamo, non è possibile questa situazione. Che cosa chiedete? Più sicurezza anche a livello... Più sicurezza, certamente, perché non meritiamo questo, non esiste proprio. Lei si sente spaventato? No, perché mi dovrei spaventare? È all'ordine del giorno, come a Napoli, come a Milano, come a Torino, come in tutte le grandi città. Successe e succederà ancora. Purtroppo questi sono i tempi. Questi sono una caccia di rapine per vedere le bollette, per vedere quest'altro, che non c'è lavoro. Sono latri ingalliti. Sono latri ingalliti e allora succede sempre. Ci dovrà sicurezza. Che cosa dovrebbe fare? Lo Stato, il Sindaco, le istituzioni? Un po' di controllo impi. Il discorso è troppo lungo da andare a fare. Vedi, per esempio, a Merito, là, dove è successo che il professore è stato ucciso proprio nella scuola. Quello è grave. È la sicurezza. È la sicurezza che manca. È lo Stato che non c'è. Purtroppo. Prendono tutti i pollici del mondo. Non fanno niente. La fracola, su questo corso, sta diventando una cosa d'aggirata. C'è tanta povertà in giro. Tanta povertà, ma non si può risolvere così la povertà, credo. Non facendo male a altra gente che lavora, a altra gente che sacrifica se stessi per portare la famiglia avanti o portare qualcosa a casa. Purtroppo è stata una sfortuna per il proprietario dell'attività. Ci deve stare più sicurezza.